È caldo. E quest'altro... è bollente. Comincia da qui, poi passa a quello bollente. Solo pochi secondi. E poi indietro. Mentre lo fai, noi controlleremo l'attività del cervello. Se senti qualche reazione al calore, potrebbe indicare un problema vascolare. Voglio sapere come sta mia madre. Sta bene. Senti qualcosa? No. Che cosa significa bene? È ancora in sala operatoria. Mi hanno detto che va tutto bene. Puoi togliere la mano. E non ha chiesto altro. Togli la mano dall'acqua. Cosa ha realmente mia madre? Anna! Hai uschioni di secondo grado alla mano. Guariranno. Che cosa le fanno? Credi che morirà? Non devi preoccuparti. Stare tanto in sala operatoria è normale quando si hanno lesioni interne. Ho iniettato del naloxone e... Buongiorno! Grazie a tutti